Ciao, siamo ancora qua. Io sono Paolo, lei è Rosi, Revolution Parchier. In questo nuovo video vogliamo ringraziarti per aver risposto al nostro invito ed esserti presentato domenica al nostro evento Art, Beauty & Wine. Un sincero grazie di cuore. Volevamo ringraziare tutte quelle persone che ci hanno aiutato ma in quel momento non sono potute stare con noi. Grazie, un ringraziamento particolare a tutti quelli che hanno collaborato per la riuscita di un incontro culturale così di alto livello. Resta con noi, ti diamo appuntamento al prossimo evento che stiamo preparando per te. Ti vogliamo bene. Ciao.